In questa puntata di Unicam News, a settembre ripartono le attività didattiche in presenza. Proseguono le iniziative nell'ambito del progetto Unicam Montagna. Ancora importanti successi per lo spin-off Unicam Limix SRL. Successo per la trentesima edizione del Seminario Internazionale e Premio di Architettura e Cultura Urbana. Bentrovati a tutti voi a questa nuova puntata di Unicam News. Questi titoli li abbiamo sentiti, ma vediamo subito il primo servizio. Dal prossimo mese di settembre all'Università di Camerino riprenderanno le attività didattiche in presenza. Grazie ad una precisa ricognizione di tutte le aule, dei laboratori, delle nostre sedi, ne è stata definita la capienza e sono stati predisposti tutti gli accorgimenti e dispositivi per consentire il distanziamento e il rispetto delle norme di sicurezza. Ad esprimere la sua soddisfazione è il Rettore Claudio Pettinari. È bellissimo raccontare questa cosa da qua, è bellissimo parlare da questo balcone, perché da questo balcone possiamo vedere le nostre residenze, possiamo vedere le nostre aule e questo ci fa capire che questa è la strada giusta, quella che abbiamo iniziato a percorrere, quella di attività in presenza che riprenderemo a partire dal 28 settembre per tutti i nostri studenti. Stiamo preparando alloggi per tutti coloro che ne avranno diritto, stiamo preparando le nostre aule per consentire a tutti coloro che vorranno seguire le nostre lezioni di poterle seguire, magari con delle turnazioni, magari ripetendo qualche lezione, ma tutte le nostre attività partiranno in presenza a partire dal 28 settembre. Contemporaneamente manterremo comunque le attività di didattica online, di didattica a distanza, attività che consentiranno a chi non potrà recarsi presso le nostre strutture comunque di seguire e riseguire e risentire quelle che sono le lezioni. Le stesse potranno essere ascoltate e risentite anche da coloro che saranno qua in presenza e che magari vorranno verificare che cosa è stato detto e magari non hanno compreso quel giorno. Proseguono le iniziative nell'ambito del progetto Unica Montagna, un ambizioso percorso fortemente voluto da Unicam in collaborazione con l'azienda Immagina Sass per accrescere la competitività e la forza rigenerativa nell'entroterra maceratese. Sono stati presentati in Ateneo nei giorni scorsi, nel corso di una conferenza stampa, due nuovi progetti, Logusti e Ricrea, realizzati in collaborazione con l'Istau. Il primo, Logusti, di cui è coordinatore Massimiliano Sport Bianchini, riguarda il turismo, la musica e l'arte, mentre l'altro, Ricrea, di cui è coordinatrice Ivana Marcheggiani, è relativo al riuso di materiali di scarto per creare nuovi prodotti. I due progetti hanno ottenuto un finanziamento da parte della Regione Marche con l'obiettivo di valorizzare le imprese culturali e creative del nostro territorio. Ancora un importante successo per lo spin-off di Unicam, l'IMX SRL, che si è aggiudicato un importante finanziamento da parte della Regione Marche, ottenendo il punteggio più alto per il progetto e-Glove, relativo alla progettazione e realizzazione di un nuovo dispositivo di comunicazione per persone, la cui capacità comunicativa risulta menomata. Con particolare riferimento alla riabilitazione post-ictus. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la sezione di matematica della Scuola di Scienze e Tecnologie di Unicam, Iesi Lab e ACME Lab di Ascoli Piceno. Con l'IMX Spin-off Unicam abbiamo partecipato e vinto un bando della Regione Marche per lo sviluppo di i-Glove, che sarebbe il prodotto Talking Hands adattato per pazienti che sono stati colpiti da ictus e che devono riabilitare l'uso della parola attraverso i gesti. Sarà uno studio molto interessante, poiché la letteratura in ambito scientifico-medico è già molto chiara e dice che appunto per velocizzare la riabilitazione all'uso della parola e quindi alla vocalizzazione si usano solitamente i gesti. È molto interessante vedere se l'utilizzo di gesti più un feedback vocale che proviene dall'audio dello smartphone a cui è collegato il guanto, i-Glove, aumenterà ancora di più la velocità di recupero dell'utilizzo della parola. Ricordo a tutti che Talking Hands è un dispositivo che è composto sia da una sorta di guanto con dell'elettronica dock ed uno smartphone. Grazie a questo sistema siamo in grado di registrare i gesti a nostro piacimento ed associargli una parola, una lettera, un numero, un'intera frase. E nel momento in cui ripeteremo quel gesto, quel segno, il guanto parlerà in maniera autonoma. Il Covid non ha fermato nemmeno il consueto appuntamento con il Seminario Internazionale e Premio di Architettura e Cultura Urbana, iniziativa promossa e organizzata dall'architetto Giovanni Imarucci giunta quest'anno alla trentesima edizione. Dal 27 al 31 luglio, in modalità telematica, i numerosi partecipanti hanno discusso sul tema città futura, progetti di rinnovamento urbano, con particolare attenzione agli spazi rigenerati, alle nuove forme dell'abitare e alla mobilità verde e infrastrutture urbane. Le giornate di studio si sono sviluppate in sessioni con breve relazioni programmate, comunicazioni e conversazioni interdisciplinari alternate a laboratori all'interno dei quali tutti gli iscritti hanno potuto presentare i loro lavori raccolti nella galleria virtuale. È stato inoltre assegnato il premio SACU Camerino 2020. Bene, io mi fermo qui, non ci sono altre notizie. Vi ricordo che tutte le informazioni sull'Università di Camerino sono disponibili sul sito internet www.unicam.it. A tutti voi, grazie per essere stati con noi e buona serata.